Ma Pescara è molto volitivo, ci siamo allenati molto bene in questo periodo, la sosta è arrivata a pennello per mettere a posto certi giocatori che erano infortunati, abbiamo secondo me lavorato molto bene, siamo pronti a questa partita, conoscendo le difficoltà della partita, conoscendo gli avversari, sì, dobbiamo considerare tutti gli aspetti, gli avversari, è tutto considerato, tutta questa cosa qui, credo che in quel ruolo Brugman possa essere molto molto importante. Poi è solo la verifica del campo che ci dirà se sarà giusta, se sarà sbagliata, se avrò fatto una cavolata, però io credo che potremmo far bene così, giocano un ottimo calcio, sono molto propositivi, attaccano contatti giocatori, è una squadra che in questo momento è in grandi condizioni, sia fisica che mentale, visto le prestazioni che hanno avuto, però ci siamo anche noi. Insomma, noi andiamo lì, certamente cercheremo di fare la nostra partita, non andremo certamente a difenderci, perché io sono dell'avviso sempre di giocarmi la partita, poi alle volte vengono bene, alle volte no. Noi abbiamo delle caratteristiche dei giocatori che dobbiamo sfruttare, questo sì, al di là degli avversari, abbiamo con giocatori così veloci, bisogna sfruttare la loro capacità di ribaltare il fronte. Credo che la partita non finirà certo 0-0, nel senso che noi dovremmo giocarci a cercare di far gol e poi... C'è un atteggiamento difensivo che non pagherete? Secondo me, se lasci giocare loro, vai in balia loro. Noi non dobbiamo permettere questo, noi dobbiamo cercare di giocare le nostre armi, che sono il gioco che abbiamo sempre cercato di fare. Alle volte ci siamo riusciti, alle volte no, come ho detto precedentemente, però questa è l'intenzione della partita. Poi è chiaro che bisogna vedere il campo. No, mi dispiace molto perché in questo momento qua, fra l'altro, giocando in 13 giorni, giochiamo 4 partite, avevamo bisogno, specialmente in mezzo al campo, dove le mezzali siamo... In questo momento siamo contati di mezzali, insomma, quelle sono, e avevamo bisogno di questo ricambio. Però purtroppo è successo, ma spero che riprenda quanto prima possibile, soprattutto per lui, insomma, ecco.